Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo video Io sono troppo Modella 07 E' stato bisogno di questa idea di fare un canale di Facebook Quindi per me insieme volevo fare un canale di Facebook Ho sentito un Minecraft Un video in questo episodio non credo vi verrà molto In questo episodio non credo vi verrà molto Lasciate in un momento in modo di pensare e scrivete e credo che potremmo iniziare adesso ok insomma la mia idea è di farmi una cosa vicino all'alberi perché quando me l'avevano fatta con noi quegli alberi ho dovuto guardare per trovare alberi quindi ora si parla di mangiare e ora spessi intendo come soldi e non è nulla ... ora andiamo a andare in fronte della vaga ora si passa alla costruzione della vaga entriamo ciao viano e rieccoci finalmente insieme ecco la casa allora lo so che fa un po' cagare però come inizio non è male giusto? un pezzo come al solito andiamo a spaccare legna ok andiamo a spaccare altra legna come al solito non ho neanche un'acea benissimo maialino ricordati che tu morirai maialino ricordati io andrò a cercare ah nei commenti proponetemi che gioco devo fare perché io sono indeciso dopo avermi fatto le armi tutto dopo avermi fatto le armi tutto andrò a cacciare un po' di maiali perché io l'ho promessa col maiali che è ammazzato graffidiamo le armi le armi le armi le armi ok ok ammazziamo una peccola andiamo a caccia degli animali? si è una peccola ammazzata cioè io non mi vorrei all'andare dalla casa perché è piccola e non si vede proprio da lontano quindi ammazzerò solo quello che vedo qui indor ok oh mucche mucche ok abbiamo un po' di animali visto che io non sono così cattivo non ne ammazzo di più mettiamoci una bella cesta queste non mi servono non ho fame quindi deposito la lama un bastoglino e queste quattro cose a spada me la tengo bene credo che posso concludere qui in questo episodio ditemi voi cosa dovrei fare nel prossimo episodio e noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi grazie a tutti Grazie a tutti